Ciao amici, benvenuti sul mio canale, sono qui con un fantastico video la prossima settimana Azzal Subasi incanta a tutti con i suoi fantastici post. Oggi condividerò con voi un video meraviglioso che è stato oggetto di Azzal Subasi e degli anziani. Prima di andare al nostro video, iscriviti al mio canale, metti mi piace al mio video e iscriviti al mio canale. Il matrimonio di Azzal Subasi ed Erkan Merik è stato celebrato come una delle coppie più famose in Turchia. La famosa attrice Azzal Subasi ed Erkan Merik si sono sposati con amore. Azzal Subasi, che amiamo moltissimo, è un nome molto popolare nel mondo televisivo. Azzal Subasi, che ha talento nel campo della recitazione e della voce, avrebbe sposato Azzal Subasi ed Erkan Merik con la partecipazione di molte celebrità. Con l'incidente al punto in cui tutta la Turchia ha conquistato il cuore dei loro amici, soprattutto dei loro amici. La coppia è molto felice del sostegno e dell'amore di tutti i loro amici e famiglie. Ha conquistato il cuore di Azzal Subasi ed Erkan Merik decidendo di sposarsi con il nome Askin con cui vivevano. Il matrimonio di Azzal Subasi ed Erkan Merik è stato accolto con interesse dai seguaci delle celebrità. Finora abbiamo letto molte notizie sul matrimonio della coppia. Sappiamo che la coppia è molto contenta e molto felice di condividere questa notizia. Erkan Merik e Azzal Subasi hanno ricevuto grandi consensi sui social media come una coppia famosa che hanno amato e scelto. Grazie.